Non è vero, non è vero, perché ce l'ha pure lei, giusto, giusto, abbiamo delle risorse interne, giusto, non dire niente se caro Pinieri, lei ha fatto due perché, no, era perché doveva partire. Luca Laroni, questa volta l'abbiamo detto giusta, alla fine delle 24 ore sono riuscita anche a dire il cognome Giubbisogna, alla fine delle 24 ore, no, giuro che però ieri mi hanno dato l'indicazione sbagliata, mi hanno fatto mettere in dubbio quello che avevo scritto io, quindi ho detto ma magari. Io però non bevo birra, non mi piace, no, non è la birra proprio nulla. Io ti feina la cosa. No, 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 no. Vai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.